I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I, I, I'm a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rap Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono DarkHouse92 e oggi registro il secondo video per voi Molta gente, molta gente ha chiesto Dark, oppure anche nelle live di RDT Ma come si fa a togliere lo scudo? Una volta che lo metti non lo puoi più togliere E invece io ve lo sto proponendo adesso come toglierlo su, ovviamente, Fortnite Allora, i primi passi che dovete fare, quali sono? Semplicemente cliccare qui, ok? Ci siate? Purtroppo questo video durerà poco, però è per farvi vedere appunto come si toglie Perché molta gente ha chiesto come si toglie, come si toglie Ok, allora Allora, quello che dovete fare è semplicemente cliccare nello scudo Avete lo scudo messo, ritornate qui, cliccate e fate doppio clic con il tasto destro anche sullo scudo Ritornate subito nella pagina e lo scudo non c'è più Lo ripeto per chi non l'avesse capito Avete lo scudo? Ok? Avete lo scudo messo? Ci siamo? Ricliccate nello scudo, ok? Cliccate una volta col tasto sinistro sulla X E due volte col tasto destro sullo scudo Ritorno indietro e lo scudo è tolto Ovviamente questo video è a scopo informativo per informarvi al punto come si toglie lo scudo Perché molta gente lo voleva togliere Anche perché a volte lo scudo ingombra e dà fastidio e robe varie Niente ragazzi, che vi devo dire? Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video Spero che sia stato di vostro aggredimento Mi raccomando nei commenti, scrivetemi se vi è stato d'aiuto questo video Un bacione e mezzo dal vostro Darkhouse92 E noi ci vediamo prossimamente Bella ragazzi, un beso Bye Ciao